Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della regione Puglia, traccia il punto sullo sviluppo della nostra regione. Il suo è un giudizio estremamente positivo. Infatti, un articolo del Sole 24 Ore, pubblicato il 14 agosto scorso, dal titolo Bari regge l'urto della fuga dal sud grazie a Piano Casa, Turismo e ICT, cita fra l'altro l'ultimo rapporto Svimez, secondo cui con l'Abruzzo e la Sardegna, la Puglia è tra le regioni del sud che, con il suo più 1,3%, registra nel 2018 uno dei migliori tassi di sviluppo in uno scenario nazionale che non supera lo 0, Il dato positivo dipende da un mix di fattori dal Piano Casa agli incentivi della regione con aziende che decidono di investire sempre più in Puglia. Si fronteggia meglio la crisi se si fa leva su alcuni fattori competitivi come innovazione ed internazionalizzazione e su questi due elementi si muove la politica industriale della regione Puglia. E aggiunge Borracino, non è un caso che la Puglia di oggi non è più quella regione arretrata e assistita che è stata nel passato. Dal 2005 ad oggi ha potuto contare su una classe dirigente che ha saputo guardare al futuro e fronteggiare una crisi economica che è andata aggravandosi negli anni e che oggi rischia di far precipitare il mondo in conflitti che credevamo superati per sempre, come quelli provocati dal neoprotezionismo dell'America di Trump. Peraltro questo merito ci viene riconosciuto per intero al di là delle polemiche politiche spicciole non solo da un giornale prestigioso come il Sole 24 Ore ma anche da Svimez, Istat, Union Camere e Banca d'Italia per citare soltanto alcune fonti. E conclude così Borracino, insomma nonostante tanti problemi ci abbiamo saputo fare, abbiamo intrapreso la strada giusta e su questa adesso occorre continuare.